Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo canale che si chiama S.T.Chanel Nome deriva da cui Stefano e S.T.Chanel Canale Faremo molti video tra cui parodie degli europei Le nostre reazioni Ci sono dei fantasmi Le pro direzioni FIFA Adesso vi spieghiamo perché c'è anche il nostro cameraman che si chiama Daniel Tognatti Adesso descriviamo la nostra vita a uno a uno Come siamo facciamo un po' la carta d'imbarco E volevo solo dire che la nostra maggior parte dei video sarà sul calcio perché è la nostra passione Si, diciamo Infatti giochiamo nella nostra squadra Si chiama, noi siamo di Torino quindi giochiamo FC Torino Ma giochiamo di Rio comunque Vabbè, adesso insieme Dopo vi faremo vedere anche nella nostra maglietta di allenamento Adesso Nome Thomas Cognome Tognatti Sport Faccio calcio come ho già detto Squadra FC Torino Città dove avete Torino Anni Undici e mezzo Ricompio il quindici settembre Quanti? Dove c'è Ruolo Faccio il centrocampista centrale Il fantasista E il ruolo nel canale di Youtube? Eh, faccio lo stesso ruolo di Stefano Cioè Protagonista Protagonista Ok, passiamo a Stefano Ok, passiamo a Stefano e prego Nome Stefano Cognome Prego Età 12 Quasi 13 Luogo di provenienza Luogo di provenienza Torino Squadra in cui gioca calcio? FC Torino Ruolo in cui gioca calcio? Portiere Ruolo del canale? Protagonista Però Vorrei precisare che Nel Torino Faccio Capitano Quindi Vorrei precisarsi con questo E Buono Noi abbiamo finito Abbiamo fatto la nostra descrizione E Vieni anche te Daniel Velocchio L'ho sfigato che devi fare ogni volta il video Vai da l'altra Vai da l'altra Ehm Facciamo che questo video lo faremo durare circa 3 minuti spero Mazzo Dai Dani Vai Ma la cosa brutta è che non ci pagano Ci stanno tutti silenziosi Intanto sta giocando l'Italia Non puoi guardare, non puoi guardare Oh scusate E noi faremo già la parvia E Ciao a tutti ragazzi A un nuovo video Che Il nostro primo video Vi anticipo Vi va Già Che sarà di FIFA 6 Speriamo Ciao a tutti ragazzi Aspetta Così Voleevi Era tutto lo scherzo perchè noi siamo di Tirana E non Torino Luogo in provincia di Sondro Ehm Ehm In Lombardia E noi giochiamo con calcio nella tiranese Ovviamente io il capitano Loro E gli altri ruoli che hanno detto Ehm Questo era tutto Volevo dirvi solo questo Un'è Ehm Grazie.